Buon pomeriggio, buon viaggio, ben trovati con Moversi in Toscana e studio Mauro Ciutini. Partiamo con l'A1, vengono segnalate code in uscita a Firenze Sud per traffico intenso in direzione di Roma. In A1 panoramica stanotte domani dalle 22 alle 6, chiuso per lavori il tratto tra il Bivio A1 variante località Baccheraia e Roncobilaccio verso Bologna. Sempre in A1 ricordo che l'area di servizio va di Alpino Est e il camper service chiuso per un guasto. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Infine sulla Aurelia, sulla Statale 1 c'è uno scambio di careggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione di Grosseto. È tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, buon viaggio. Grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, buon viaggio.